vedo un coso mi ha detto andiamo in reangelo andiamo da qui devo andare fuori scusa da qua devo vederlo andiamo siamo a 200 metri 70 di altezza torniamo indietro va benissimo il segnale torniamo indietro dai ritorniamo qua nella bella via che eravamo prima abbassiamo col gimbal così vediamo dove siamo che noi siamo qua e ritorniamo indietro da 70 metri torniamo indietro torniamo indietro ecco ti li e ti vedo giù 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 torniamo indietro torniamo indietro ora siamo arrivati abbiamo fatto un test flug per esempio potremmo qualcosa qualcosa potremmo potremmo ci vediamo ci vediamo ciao ciao l'hotel vuoi giorgio lì davanti va bene va bene se la cadrega o se la cadrega ci vediamo ci vediamo ci vediamo ti vediamo trois ti vediamo